Attraverso una nota stampa il consigliere di minoranza Luigi Maurano ha fatto sapere che ha protocollato una richiesta al comune per ricevere copia dell'intera documentazione del rapporto in essere tra il comune di Castellabate e la CONSAC e per avere una relazione di quanto finora fatto dalla stessa in ottemperanza agli obblighi previsti. La convenzione, sceleratamente firmata dall'amministrazione comunale con la CONSAC, prevede una serie di impegni reciproci che le parti devono rispettare, scrive Maurano. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'articolo 6 stabilisce che la CONSAC doveva completare la progettazione per gli interventi strutturali necessari, avviare entro quattro mesi dalla presa in carico del servizio idrico integrato le procedure di affidamento dei lavori, eseguire entro tre anni le opere. Ormai sono passati due anni e mezzo da quando la CONSAC gestisce il servizio idrico integrato del comune di Castellabate. Quanti di questi impegni sono stati rispettati? Si chiede Maurano. Come la CONSAC punisce con distacchi improvvisi e applicazione di interessi ai cittadini che non riescono a pagare le bollette salate? Così il comune di Castellabate dovrebbe essere severo, inflessibile e duro nei confronti della CONSAC nel caso in cui non rispetti i patti. Per queste inadembienze e contrattuali, sottolinea ancora Maurano, si potrebbe mandare a casa questa società che ha reso l'acqua pubblica un bene di lusso. Se voi vorrete, ciò che faremo perché chi amministra deve agire nell'esclusivo interesse dei cittadini e tale principio non ci concilia con la permanenza della CONSAC sul nostro territorio. Per chi ancora si ostina a giustificare la scelta nefasta di affidare il nostro servizio idrico integrato alla CONSAC o per chi sottovoce dice ai cittadini che non si può mandare a casa questa società, ricordo tre aspetti e lo faccio pubblicamente a viso aperto e con piena sicurezza. Non esiste nessuna legge che obbliga il comune di Castellabate a scegliere proprio la CONSAC, quale gestore del servizio idrico integrato si poteva e si può decidere diversamente. Se ci fosse stata la vera volontà e la piena disponibilità da parte dell'amministrazione, si poteva optare per altre società che non hanno queste tariffe insostenibili per i cittadini e per l'intera economia locale. Inoltre alcuni comuni ancora gestiscono autonomamente il servizio idrico poiché la normativa nazionale e le sentenze del tar lo permettono. Le tariffe della CONSAC sono le più alte di tutto l'ambito, il triplo rispetto alle precedenti tariffe del comune di Castellabate, il doppio rispetto alle tariffe dell'ASIS, un altro gestore presente nel nostro ambito. Ci sono tutti i presupposti normativi e contestuali per mandare via la CONSAC e fare le altre scelte a tutela dell'economia locale ormai vessata da questa società. Tutto il resto sono timide giustificazioni di chi l'ha combinata grossa, conclude il consigliere comunale.